Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito affinché nessuno sia perduto. Così esordisce il Papa nell'Angelus della quarta domenica di Quaresima, spiegando che questo deve essere motivo di gioia per i cristiani. Francesco riprende l'episodio del dialogo notturno tra Gesù e Nicodemo, che attendeva al Messia come un uomo forte che avrebbe giudicato il mondo con potenza. Gesù invece mette in crisi questa aspettativa presentandosi sotto tre aspetti, quello del figlio dell'uomo esaltato sulla croce, quello del figlio di Dio mandato nel mondo per la salvezza e quello della luce che distingue chi segue la verità da chi segue la menzogna. Il Santo Padre prosegue dicendo che la missione di Gesù è missione di salvezza per tutti e Dio ci dona suo figlio non per condannare e punire il mondo ma per salvarlo dai suoi peccati. Francesco spiega anche l'associazione di Gesù con la luce e la scelta tra il percorrere una via illuminata o quella delle tenebre. Chi cammina nella luce non può fare altro che buone opere. Questa luce però va accolta con cuore aperto, un invito ancora più attuale in tempo di Quaresima, accogliere la tenerezza e il perdono di Dio. Non dimenticatevi che Dio perdona sempre, sempre se noi con umiltà chiediamo il perdono, soltanto chiedere il perdono e lui perdona. Il perdono di Dio è la vera gioia che rigenera e dà vita. In conclusione il Papa ha poi affidato a Maria le proprie preghiere chiedendo a lei di essere liberati dalla paura di lasciarsi mettere in crisi da Gesù. Una crisi che è salutare per la nostra guarigione e perché la nostra gioia sia piena. Grazie. Grazie. Grazie.